Ciao a tutti, sono Antonio Girardi e questa sera torneremo a parlare di Kali Yuga e parlando di Kali Yuga cercheremo di capire come la nostra realtà rifletta questo processo che ha anche un'alta valenza simbolica e che è sicuramente un processo di grande spessore e anche un processo che può fornirci preziosi elementi per quella che è la nostra evoluzione individuale. Nel momento in cui ciascuno di noi osserva con attenzione la realtà che abbiamo di fronte e credo che in questo momento sia molto importante per tutti noi osservare con grande attenzione questa realtà in un'ottica che ci possa permettere di non essere semplicemente soggetti ai pensieri degli altri ma anche in grado di capire, comprendere e quindi essere in grado di manifestare un proprio livello di coscienza, un proprio livello di consapevolezza. Osserviamo dunque la realtà di questi giorni, quella che abbiamo di fronte e cerchiamo di vedere in qualche modo attraverso anche una contrapposizione di elementi quali siano gli elementi per così dire negativi e quali quelli positivi, quasi per contrasto. Sicuramente stiamo vivendo un momento in cui c'è una grande affermazione della dimensione della violenza. Ce l'abbiamo davanti agli occhi certamente perché c'è diciamo alle porte dell'Europa una guerra in corso, ma noi sappiamo che comunque complessivamente le guerre in corso sono tra le 15 e le 20 e naturalmente oltre che alle guerre combattute ci sono molte disarmonie che gli esseri umani si trovano a fronteggiare in questo momento. Quindi abbiamo una dimensione di violenza e abbiamo anche ovviamente la violenza è sempre accompagnata da un aspetto che ha a che fare con la soprafazione perché di fatto la violenza è l'espressione del piccolo io dell'essere umano e quindi nel momento in cui l'essere umano si identifica fortemente con alcuni aspetti e ovviamente tende a imporli agli altri, molto spesso questa dimensione della violenza finisce per essere sopraffazione. L'egoismo naturalmente nasce da questa identificazione che l'essere umano fa con la propria personalità e molto spesso noi dobbiamo considerare che l'egoismo è sostanzialmente figlio della paura perché una persona molto sicura di sé, una persona che osserva la realtà per così dire anche filosoficamente, una persona che non vive nutrendosi diciamo così della dimensione del contrasto con gli altri è una persona che non si va diciamo lungo la deriva della violenza della soprafazione e quindi dell'egoismo. Ma c'è anche un altro elemento molto molto importante che noi dobbiamo guardare anche nel tempo presente, mi riferisco all'indifferenza, cioè tutto sommato dobbiamo considerare anche una cosa che l'egoismo porta con con sé l'indifferenza. L'indifferenza nei confronti delle cose, l'indifferenza nei confronti degli altri. Gli esoteristi amano dire che un essere umano indifferente non può essere un essere umano che acquisisca una dimensione di consapevolezza spirituale rilevante. Anche l'indifferenza è una forma di difesa perché non si vuole diciamo così mettersi in gioco, non si vuole sacrificarsi e naturalmente questo non è certamente un aspetto positivo. Ce n'è anche un altro però che caratterizza il tempo presente. Noi usiamo questa parola che è inflazione soprattutto dal punto di vista economico. In realtà questa sera non la vogliamo utilizzare da questo punto di vista ma da un altro punto di vista e cioè inflazione intesa come perdita progressiva di valore che hanno le parole, che hanno i pensieri, tutto si rende molto veloce, tutto si rende molto complesso e naturalmente tutto questo non produce armonia ma produce proprio questa dimensione che è la dimensione dell'inflazione. Le parole sono talmente tante, le frasi sono talmente scontate che perdono la loro importanza e questo porta con sé la superficialità. Siamo in un continuo stato di reazione e questo è molto funzionale per fare di tutti noi degli ottimi soggetti diciamo di consumo e quindi i consumatori devono essere veloci, devono essere reattivi, non ragionano, non pensano, non riflettono, è sufficiente un link o è sufficiente un acquisto. Ma chiaramente in questo momento non ci sono soltanto queste cose, ci sono anche i loro opposti e questi opposti sono chiaramente in azione. allora non ci sono soltanto degli esseri violenti ma ci sono anche degli esseri pacifici, ci sono degli esseri che amano sicuramente gli altri, ci sono degli esseri che sono generosi e quindi non usano la saprafazione e l'egoismo ma usano la generosità nei confronti degli altri, la disponibilità e chiaramente sono degli esseri che si fanno coinvolgere nelle cose che credono e quindi non sono indifferenti e c'è un aspetto che questi esseri umani hanno la capacità di rendere sacri gli spazi che vivono, quindi la dimensione della meditazione individuale come spazio sacro ma anche la relazione, la relazione familiare, la relazione amicale diventa uno spazio sacro per questi esseri e non soltanto naturalmente questo spazio sacro ha a che fare con la dimensione degli affetti ma anche a che fare proprio con la dimensione del lavoro, quindi anche il lavoro diventa uno spazio sacro e questa dimensione di spazio sacro è connessa con una logica di sacrificio, sacrificio inteso nel suo senso lessicale, la capacità di rendere sacre le cose che si fanno e c'è molto di questo perché ovviamente se il mondo fosse quello che viene descritto prevalentemente dai media e dall'informazione sarebbe un mondo che non può andare avanti, mentre in realtà in questo momento io voglio sottolineare questo aspetto di quanto di buono ci sia, di quante persone di spessore ci siano, di quante persone che generosamente si danno agli altri e ispirate dal bello, dal buono e anche dal vero di platonica memoria fanno quello che possono dove sono perché questo è un elemento importante, l'essere umano a volte sfugge alla sua realtà e posticipa in un tempo che non c'è, in un tempo futuro, in un tempo ideale, quelle che possono essere le sue prese di coscienza. In realtà l'essere umano ha a disposizione questo momento, il tempo presente e la valorizzazione del tempo presente passa attraverso la consapevolezza del qui ed ora e la consapevolezza del qui ed ora passa a sua volta attraverso l'accettazione di quello che siamo, l'accettazione di dove siamo, quindi la vita, il karma ci ha messo nel posto giusto, al momento giusto, anche se naturalmente non sempre noi abbiamo una percezione soggettiva di questo tipo, ma certamente la nostra opera, la nostra opera alchemica, ha il suo spazio tempo nel momento presente, nel posto dove siamo e quindi in ultima analisi nel qui ed ora. Tutto questo che cosa ci può portare a considerare? Ci può portare a considerare che probabilmente il Kali Yuga è proprio un tempo di dualismo, ma questo tempo di dualismo non significa naturalmente che siano le cose peggiori a prevalere, significa che accanto alle cose peggiori ci sono anche le cose migliori. Andiamo a vedere gli antichi testi che cosa dicono rispetto a queste età, rispetto a questi Yuga. Per quanto riguarda il Kali Yuga, la tradizione ci dice che sarebbe cominciato con la morte di Krishna e convenzionalmente la morte di Krishna è datata il 18 febbraio 3102 a.C. e questo tempo, adesso naturalmente parliamo anche di alcuni numeri e poi considereremo se questi numeri hanno un carattere simbolico o hanno un carattere reale. Per il momento cercheremo di cogliere la tendenza. Il Kali Yuga, secondo la tradizione orientale, durerà 432.000 anni e dovrebbe poi, siamo all'interno ovviamente della tradizione induista, concludersi con l'apparizione della decima incarnazione di Vishnu nella forma del Kalki Avatara, il cui simbolo sarebbe appunto un Vishnu che apparirà su un cavallo bianco. È evidente che c'è una forte simbologia, diciamo, in questa immagine. Ma come siamo arrivati, secondo la tradizione orientale, al Kali Yuga? Siamo arrivati al Kali Yuga attraverso altri Yuga, attraverso altre età, a partire da quella dell'oro. È molto interessante vedere come nella tradizione orientale l'età dell'oro sia l'età più lunga, quella che è durata un milione e settecento e ventotto mila anni. Qual è stata la dominante di questa età? È stato il concetto di Sattva, quindi il concetto di virtù. E questo concetto, nell'età dell'oro, si esprimeva elettivamente attraverso lo Yoga, che è il cui significato letterale, proprio unione, e attraverso la meditazione. Ma dopo questo lungo periodo di stabilità, in Oriente ci sono due immagini che accompagnano, diciamo, gli Yuga e i diversi periodi di tempo. E naturalmente l'età dell'oro è simboleggiata da un toro, saldamente fermo, diciamo, sulle sue quattro zampe, senza nessuna incertezza. È chiaro che, come abbiamo avuto anche modo di vedere in una precedente conversazione, il simbolo del toro è anche il simbolo della saggezza. Abbiamo parlato, in effetti, di quella meravigliosa simbologia che è la caccia al toro, della tradizione buddista, in cui proprio il toro assume la sua connotazione, diciamo così, simbolica, coincide con il concetto di saggezza. Ma lasciamo la caccia al toro, su cui possiamo tornare in una successiva occasione, e concentriamoci invece sui nostri Yuga e sulla loro evoluzione. Dopo questo periodo dedicato, diciamo, alla virtù, alla meditazione e allo yoga, l'età dell'oro fa seguito l'età dell'argento, che ha una durata di 1.296.000 anni. E come possiamo osservare, l'età dell'oro è più lunga e man mano che le età si passano, diciamo così, la loro durata si accorcia. Questo ha anche una profonda simbologia. In questa età, diciamo, che definiamo il tretta yuga, lo definiamo età dell'argento, c'è un decadimento dei valori e naturalmente l'essere umano comincia a dividerci, cioè l'umanità, direi, comincia a dividersi tra coloro che appartengono a comunità, che seguono la spiritualità e comunità che invece seguono la materialità. È evidente che io sto presentando proprio quello che è il significato attribuito a questi yuga dalla tradizione orientale, dalla tradizione hinduista. A questo momento ne segue un altro, definito come età del bronzo, della durata di 864.000 anni, Dvapara yuga, e qui c'è un'ulteriore decadenza, perché la realizzazione spirituale avviene attraverso l'adorazione di divinità. Quindi è in questa età che, secondo la tradizione hinduista, vengono, diciamo, ad essere rappresentate le divinità. E materialisti, in questa epoca, materialisti e spiritualisti nascono sotto lo stesso tetto. Quindi passiamo da un'età perfetta dedicata alla virtù, a un'età in cui le comunità si dividono, ci sono delle comunità spirituali, ci sono delle comunità vocate, diciamo, al materialismo, e poi ancora invece i materialisti e gli spiritualisti nascono sotto lo stesso tetto. Cioè quindi nella stessa famiglia è possibile trovare talora spiritualisti e talora materialisti. Il Kali Yuga è un periodo in cui questo dualismo che ha cominciato ad apparire si instaura saldamente all'interno dell'essere umano. Quindi l'essere umano può arrivare ad identificarsi, anzi normalmente si identifica con il suo corpo e con il piccolo io della spiritualità e naturalmente questa dimensione, l'affrancamento, diciamo, da questa dimensione richiede un atto di volontà. Non casualmente a Sagioli l'unico libro, diciamo, che ha scritto di suo pugno è stato proprio l'atto di volontà, perché in questa epoca di Kali Yuga l'essere umano ha la necessità di fare degli atti, dei precisi atti di volontà. Ovviamente noi potremmo riflettere come sempre di fronte alle grandi scritture religiose, così come di fronte ai miti, quando ci troviamo di fronte a certi simboli, quando ci troviamo di fronte a certi numeri potremmo naturalmente discutere se questi vanno presi letteralmente oppure se invece vanno presi simbolicamente. Ma certamente la tradizione orientale ci viene a dire che i tempi dell'evoluzione sono dei tempi che con il nostro metro del tempo che abbiamo, lineare, sono dei tempi lunghi, cioè natura non faccia il saltus, come dicevano gli antichi, e quindi anche l'evoluzione è un'evoluzione molto importante, molto lenta, e noi che siamo abituati ad essere frettolosi e a volere tutto e subito, ovviamente la tradizione orientale ci viene a dire che così non può essere. Un grande spiritualista come Judge, William Judge, un americano di fine ottocento, diceva che la cosa più importante per gli esseri umani in questo periodo di Kali Yuga è prendere coscienza che siamo in un periodo di Kali Yuga, e in effetti usava queste parole. Per il momento gli studenti dovranno essere soddisfatti con l'affermazione generale che siamo nel Kali Yuga. Le caratteristiche del tempo presente mostrano abbastanza chiaramente che mentre l'aspetto materiale della civiltà è in alto, il suo lato spirituale è in basso, al buio, all'egoismo e l'ordine prevalente. Queste sono le parole di Judge. Nessuno di noi può davvero pretendere di sapere di più di questo. L'inizio di questa età, il tempo della sua fine, ci sono oscuri, ma la teoria generale, sufficiente per le nostre esigenze attuali, è perfettamente chiara. La frase di Judge è particolarmente interessante perché c'è un pericolo che anche il ricercatore spirituale sicuramente corre, ed è quello del consumismo spirituale, e cioè non siamo disposti in realtà a metterci in gioco fino in fondo e cambiare l'approccio della nostra vita e della nostra realtà. Ma siamo piuttosto invece portati a volere subito dei risultati e probabilmente molto spesso questi risultati noi li vogliamo acquisire, diciamo a tutti i costi, non in un'ottica altruistica nei confronti della vita, ma piuttosto in una logica egoistica. Quando parlavo del toro saldamente fermo sulle quattro zampe, va da sé che nelle età successive questa saldezza del toro, simbolo della saggezza, diminuisce. E quindi troviamo la rappresentazione del toro nell'età dell'argento con tre zampe, due zampe nell'età del bronzo e naturalmente nell'età del ferro, nel caliuga, il toro è altamente impermanente perché cerca di sorveggersi, diciamo, su una gamba sola. È una simbologia molto bella che è accompagnata sempre nella tradizione orientale da dei quadratini, da una sorta di domino in cui ovviamente ci sono in un campo bianco quattro punti neri nell'età dell'oro, tre nell'età dell'argento, due nell'età del bronzo e uno naturalmente nel periodo di caliuga. Quello che dobbiamo anche considerare sono due ipotesi di lavoro che gli studiosi del caliuga hanno evidenziato nel tempo. La prima riguarda il fatto che all'interno dell'età del caliuga possano permanere comunque importanti tracce delle età precedenti, quindi dell'età dell'oro, dell'età dell'argento e dell'età del bronzo, con un relativo accesso naturalmente alle fonti, alle pratiche, eccetera. Secondo costoro, che cosa finisce per essere allora il tempo presente, anche il tempo del caliuga? È comunque un tempo in cui l'essere umano, l'uomo di buona volontà, ha la possibilità di accedere alle fonti della conoscenza, ovviamente attraverso la pratica, attraverso la meditazione, e sviluppare quell'aspetto intuitivo che lo può mettere in contatto con le fonti dell'eterna saggezza. E questo porta con sé alla seconda ipotesi di lavoro, e cioè che nel cuore e nella mente di ogni singolo individuo vi sia la possibilità di superare il dualismo. Un'immagine attraverso cui viene rappresentata tutto questo è sostanzialmente quella di un vento che soffia, diciamo, dall'alto verso il basso, quindi che tende a schiacciare l'individuo, diciamo, da una dimensione più spirituale verso una dimensione materiale, ma nello stesso tempo questo processo muove una forza, muove una corrente che è una corrente ascendente e quindi naturalmente l'essere umano ha la possibilità non solo naturalmente di essere travolto dalla dimensione del Kali Yuga, ma anche dal suo posto, e quello cioè di trovare proprio in questo momento la forza e la radice dello sviluppo dell'eterna saggezza, dell'intuizione, e così via. Un'affermazione molto interessante di un'atma orientale è questa. Se guardate all'universo fisico con l'occhio dello spirito e ci vedrete un'immagine dell'universo spirituale, voi guardate invece sempre alle cose dello spirito con gli occhi del corpo, ciò che dovete fare è guardare alle cose del corpo con gli occhi dello spirito. E continua. L'universo manifestato è pervaso dalla dualità, che è per così dire senza stessa della sua esistenza come manifestazione, ma proprio come i poli opposti di oggetto e di soggetto, di spirito e di materia, non sono che aspetti dell'unica unità in cui essi sono sintetizzati, così nell'universo manifestato c'è quello, tra virgolette, che unisce lo spirito e la materia e il soggetto all'oggetto. Questo quid, attualmente sconosciuto alla speculazione occidentale, viene chiamato dagli occultisti il turbine infuocato, Foat. Questa è l'affermazione di questo magma orientale. Credo che sia molto importante, dopo le considerazioni che abbiamo fatto, soffermarci brevemente su questa considerazione. Quando noi parliamo di dualità tra spirito e materia, dal punto di vista teosofico, non mettiamo in discussione la realtà della vita una. Perché dal punto di vista teosofico, non solo, naturalmente, non c'è una distinzione manichea fra spirito e materia, ma dal punto di vista teosofico, ogni livello di aggregazione materiale contiene comunque un principio spirituale, che è quello, poi, questo principio spirituale, che ne garantisce il livello evolutivo. Quindi, ciascuno di noi, come dire, nella considerazione della vita, della vita propria, della vita degli altri, ma anche, diciamo, della visione del cosmo, dell'universo, della realtà tutta, ha questa possibilità di capire, di comprendere, che se è vero come è vero, che la vita ha una sorta di respiro, così come ce l'abbiamo noi. E, naturalmente, l'universo manifesta fasi e cicli, diciamo, creativi, e contemporaneamente, parallelamente, dimostra anche, invece, il principio opposto, e quindi questo respiro ha anche dei momenti distruttivi, è anche altrettanto vero che tutto questo rappresenta ed è interconnesso in una profonda unità, che noi possiamo vedere proprio dal punto di vista della logica dell'evoluzione. Questa è una possibilità che l'essere umano ha, ed è una possibilità sicuramente preziosa. Vorrei tornare ancora in Oriente attraverso la lettura di un frammento che riguarda la Dea Kali, che non ha niente a che fare, ecco, deve essere chiaro, che non ha niente a che fare con il Kali Yuga, sono due, diciamo, logiche completamente diverse, no? Ma quando gli viene chiesto a questa, voi sapete che, come dire, l'induismo, c'è questa bellissima immagine di questa grandissima pietra esistente in un'area a Mabalipuran nel sud-est dell'India e in questa grandissima pietra è rappresentato al centro il Gange e da una parte e dall'altra c'è la manifestazione, diciamo, c'è tutta la manifestazione della vita attraverso, diciamo, i suoi opposti, attraverso i principi che sono diversi. La Dea Kali e Shiva sono estremamente interessanti nella cultura induista perché in qualche modo sono apparentemente dei distruttori, ma in realtà sono dei distruttori delle vecchie forme e proprio attraverso la distruzione delle vecchie forme c'è la possibilità che il nuovo, che il diverso, naturalmente, possa affacciarsi e quindi sono loro, dal punto di vista simbolico, che possono garantire delle prese di coscienza innovative nell'essere umano. E quando gli viene chiesta, nella tradizione naturalmente induista, alla Dea Kali, grande Dea, chi sei tu? Che cosa risponde lei? Ecco, questo ci permette, questa frase di capire veramente questa dinamica tra unità e dualismo. Essenzialmente, dice, io sono Brahman, l'assoluto. Da me ha avuto origine il mondo che comprende Prakriti, la sostanza materiale, e Purusha, la sostanza cosmica, il vuoto e il pieno. Sono beatitudine, non beatitudine, sono conoscenza e ignoranza. Sono i cinque elementi e anche ciò che è diverso dai cinque elementi. Sono i cinque elementi grossolani e sono i cinque elementi sottili. Sono il mondo intero, sono i Veda e ciò che è diverso dai Veda. Sono lo sconosciuto, sotto e sopra e intorno sono io. E' un inno, diciamo, davvero all'unità della vita. La fondatrice della società teosonfica, Elena Petrovna Blavatsky, in un passaggio della Voce del Silenzio, ci offre una preziosa indicazione in proposito. Tra l'altro vi segnalo la mostra su Kandinsky a Palazzo Roverella, a Rovigo, è una mostra molto bella, con 80 opere, veramente, diciamo, una mostra antologica. Kandinsky non è stato solo uno dei principali, diciamo, pittori del Novecento, ma è stato anche un grandissimo ricercatore spirituale e la sua ricerca spirituale, come testimonia letteralmente e chiaramente il suo testo, uno dei suoi manifesti, lo spirituale nell'arte, sottolinea appunto in questa opera Kandinsky quanto importante sia stata per lui la teosofia. ma ho parlato di lui accostandolo a Elena Petrovna Blavatsky, perché effettivamente la grande trasformazione di Kandinsky come pittore dall'aspetto figurativo, diciamo, all'aspetto prima simbolico e poi astratto, passa proprio attraverso la lettura delle opere di Blavatsky e attraverso l'affermazione di Blavatsky sull'aspetto vibrazionale della realtà. Quindi la lettura di quelle pagine della dottrina segreta in cui Blavatsky parla di questo aspetto vibrazionale della realtà ha influenzato molto il grande pittore russo. e proprio Blavatsky, in realtà dovremmo chiamarla Blavatskaya, scrisse in una delle sue opere principali, La voce del silenzio, questo piccolo frammento, invitando tutti a distinguere il vero dal falso, imparate a distinguere il vero dal falso, ciò che sempre svanisce, quindi ci dà delle chiavi di lettura a questo frammento, distinguere il vero dal falso, bene, ciò che sempre svanisce, l'effimero da ciò che dura per sempre, l'imperituro. Imparate prima di tutto a distinguere la scienza del cervello dalla saggezza dell'anima, la dottrina dell'occhio dalla dottrina del cuore. Ecco, questo passaggio, questa differenziazione fra la dottrina dell'occhio e la dottrina del cuore, io credo che sia estremamente importante. Gli esseri umani credo che oggi debbano privilegiare la via del cuore e debbano considerarne le immense potenzialità, che sono le potenzialità di un vero cambiamento, che non è un cambiamento consumistico, che non è un cambiamento che si può acquistare con il danaro, è un cambiamento conseguibile attraverso il fatto di mettersi profondamente in gioco. Molte volte gli approcci spirituali, soprattutto di tipo filosofico e anche teosofico, per la verità, vengono tacciati di essere degli approcci poco concreti. Se qualcuno ha ascoltato qualche conversazione precedente, sa che la mia opinione è esattamente opposta, e cioè che queste grandi conoscenze, che sono quelle della spiritualità, che sono quelle di quell'eterna saggezza, di quella saggezza che accompagna l'umanità in tutta la sua storia, sono delle conoscenze che hanno degli impatti rivoluzionari nelle vite concrete degli individui. Io credo che ci siano due aspetti da tenere presente. Noi abbiamo una percezione, naturalmente, della realtà attraverso i nostri sensi, e siamo stati abituati per sopravvivenza, per educazione, e non c'è niente di male che questo avvenga a un dato livello, voglio dire, ad essere molto reattivi, naturalmente, perché abbiamo imparato attraverso la reazione, ovviamente, a cercare di risolvere i nostri problemi. Ma dobbiamo però domandarci la realtà che è fuori di noi e quella che è anche dentro di noi, è quella che noi percepiamo con i nostri sensi, oppure la realtà è molto più complessa di questo, e la realtà non è solo quello che noi percepiamo con i nostri sensi, ma è molto di più ed è molto di diverso anche. Questo credo che sia un aspetto importante. E poi, l'altra domanda che dobbiamo farci è quali sono le nostre fonti di ispirazione? Le nostre fonti di ispirazione sono legate alla dimensione dell'avere o sono legate alla dimensione dell'essa? E sappiamo noi porci in sintonia con le strade alte del mondo? Riusciamo noi, come dire, a non essere schiavi, diciamo, a delle percezioni fugaci dei nostri sensi e cercare di capire che la realtà è molto più complessa, ma che naturalmente oltre ai mondi sensibili ci sono anche mondi, come dire, che non sono percepiti direttamente dai nostri sensi, ma che sono mondi con cui noi possiamo sicuramente metterci, diciamo, in comunicazione? Quali possono essere i pericoli? Uno dei pericoli più grossi, a mio modo di vedere, è quello di arrivare a considerare che non ci possa essere conciliazione tra la dimensione dello spirito e la dimensione della materia. E tutto ciò che ha a che fare con il pensiero duale è il nostro grande pericolo, cioè ritenere che, per esempio, la scienza e la fede siano due elementi inconciliabili. E poi anche, qui forse qualche riflessione io credo che vada fatta, c'è poi la dimensione della considerazione che naturalmente i cambiamenti avvengono sempre e solo per fattori esterni. Cioè, se noi guardiamo un po' quella che possiamo definire la cultura dominante, è sempre colpa di qualcun altro. Cioè, non c'è nessuno, o quasi nessuno, diciamo, che prende in mano la situazione e dice, beh, anch'io sono responsabile di quello che accade. È sempre colpa degli altri. Gli altri sono ladri, gli altri sono delinquenti, gli altri sbagliano. E naturalmente tutto questo ci porta lontanissimi, ci porta lontanissimi della realtà. Perché di fatto, facendo così, noi abbiamo sempre un alibi per rifiutare il cambiamento. E invece l'essere umano ha la necessità naturalmente di cambiare. Quindi l'aspetto spirituale e l'aspetto della vita quotidiana sono legati, sono legati in modo molto, molto stretto. e ci dovrebbe essere un senso di gratitudine nei confronti della vita. Ecco, questa è un'altra delle cose che sono un po' latitanti in questo periodo di tempo. Mi riferisco proprio al senso di gratitudine che gli esseri umani dovrebbero avere nei confronti della vita. La vita rappresenta la nostra grande possibilità. Rappresenta la nostra grande possibilità evolutiva. E' chiaro che ciascun essere umano in questo contesto è molto importante che persegua la qualità del pensiero e anche la qualità della parola. Il potere della lingua è un potere molto forte e la qualità della parola e la qualità del pensiero che tra l'altro sono strettamente interconnessi è molto importante che l'essere umano persegua questa qualità. Quindi significa non seguire meccanicamente e attraverso degli automatismi delle reazioni meccaniche come dire la nostra relazione con gli altri o la nostra relazione con la natura la nostra relazione con la manifestazione. E' molto importante che noi siamo capaci di controllare anche la nostra capacità espressiva e che sappiamo e dobbiamo essere capaci di sapere di conoscere quando noi stessi siamo a presa delle illusioni e quando no. C'è poi noi ci nutriamo siamo degli esseri ovviamente siamo dei grandi mediatori siamo una sorta di apparecchio radio e abbiamo la possibilità di sintonizzarci con le onde che vogliamo quindi il vero tema è con che tipo di sintonizzazione mi voglio confrontare nella mia vita questo dipende da noi è una scelta è una possibilità che abbiamo e questo credo che possa essere una realtà una dimensione estremamente importante perché porta con sé anche il tipo di relazione che noi vogliamo con gli altri e allora dovremmo perseguire delle relazioni umane positive virtuose costruttive voi sapete che ogni tanto l'analisi transazionale può essere molto utile per capire determinate dinamiche dal punto di vista dell'analisi transazionale attraverso naturalmente una semplificazione gli incroci di comunicazione fra gli esseri umani hanno a che fare con il genitore con l'adulto e con il bambino e ovviamente la relazione elettiva tra gli esseri umani è una relazione tra due adulti che vogliono costruire che vogliono progettare insieme che sanno ovviamente andare oltre le apparenze e che privilegiano la dimensione dell'essere piuttosto che quella che quello della vera c'è anche la dimensione della preghiera che a mio modo di vedere è piuttosto importante di questi tempi naturalmente la preghiera non dovrebbe essere un mendicare ma la preghiera dovrebbe essere un mettere a disposizione il nostro essere dell'aspetto sacro della vita mettere a disposizione le proprie azioni i propri pensieri per riempire per riempire gli spazi sacri di positività questo è la preghiera e credo che ci sia un grandissimo bisogno di preghiera così come ci sia un grandissimo bisogno di sano nutrimento questo vale ovviamente il nutrimento non violento vale ovviamente a livello fisico ma vale anche a livello emotivo perché noi ci nutriamo anche di emozioni e ci nutriamo anche di pensieri ecco che torniamo a quello che abbiamo definito prima essere anche l'atto di volontà e c'è questo ci hanno insegnato diciamo fin da giovani che la dimensione della vita semplice non andrebbe tanto bene meglio qualcuno cantava una vita spericolata ma a parte questo molte volte ci è stato insegnato che la vita è un processo di accumulazione questa accumulazione può riguardare anche le conoscenze naturalmente in parte può essere anche positiva ma ovviamente l'accumulazione può riguardare i beni materiali e tutta la vita l'essere umano è orientato ad accumulare serialmente diciamo e a consumare beni materiali è evidente che tutte le sue energie così facendo lo portano diciamo ad una dimensione che non può essere armonica e quindi l'essere umano finisce per essere scontento per essere infelice mentre la vita spirituale dovrebbe essere una vita di felicità quindi se le persone che percorrono un cammino spirituale non sono felici è evidente che c'è qualche cosa che non funziona naturalmente la felicità non è smodatezza ma è qualche cosa che ha a che fare con l'equilibrio della mente e l'equilibrio naturalmente anche del corpo cos'è che rappresenta il ciclo universale abbiamo fatto un cenno prima alla dimensione del respiro nel respiro noi abbiamo in qualche modo l'aspetto della creazione dei mondi simbolicamente ovviamente e anche l'aspetto della loro distruzione ma nel respiro abbiamo anche la relazione che noi abbiamo con il mondo nelle confraternite sufi si dà una grande importanza al fatto che l'essere umano sia capace di percepire coscientemente diciamo la propria dimensione del respiro e che l'essere umano sia capace di non perdere mai la concentrazione durante diciamo tutto l'arco della giornata e questa concentrazione naturalmente è possibile ottenerla attraverso la consapevolezza del respiro chiaramente qui ci sono degli aspetti pratici molto importanti e rilevanti ma ci sono anche degli aspetti simbolici altrettanto importanti e altrettanto rilevanti certo è che il respiro armonico è un segno importante nel nostro equilibrio fisico psichico e anche di tipo emotivo ho citato variamente in queste conversazioni Jiddu Krishnamurti questo filosofo indiano che ha vissuto la prima parte della sua vita quella della formazione quella della giovinezza diciamo della prima maturità in seno della società teosofica e che poi ha continuato naturalmente la sua azione di uomo appassionato alla ricerca e amante della verità l'ha continuata da solo e ovviamente la sua vita è stata una vita sicuramente straordinaria ma Krishnamurti ha avuto questa capacità di interloquire con panti artisti con scienziati con uomini di cultura e al centro diciamo delle sue considerazioni lui ha sempre messo la possibilità la capacità di un'osservazione la definirei un'osservazione radicale un'osservazione che non giudica un'osservazione in qualche modo innocente un'osservazione però totale integrale totalizzante e Krishnamurti leggo un piccolo frammento diceva solo quando si riesce ad andare oltre il groviglio di idee che costituiscono l'io che è dotato di totale o parziale continuità solo quando si riesce a superarlo allora quando il pensiero completamente muto solo allora si realizza uno stato dell'esperire e si saprà allora che cos'è la verità di Krishnamurti è possibile raccontare naturalmente molte cose perché la sua vita è stata sicuramente una vita eccezionale però c'è un aspetto che vorrei sottolineare di Krishnamurti che è questo cioè molte persone volevano considerarlo una sorta di Buddha di realizzato di illuminato e lui naturalmente ha sempre rifiutato questo appellativo e tra l'altro come dire lo ha sempre rifiutato perché affermava che se le relazioni tra gli esseri umani sono delle relazioni sbilanciate come quella diciamo fra un maestro che diventa un'autorità un riferimento come dire normativo per un allievo che ha poca voglia diciamo di impegnarsi di lavorare e di cambiare ma che è lì che aspetta l'imbeccata del maestro dal punto di vista di Krishnamurti non ci può essere una sana relazione tra gli esseri umani da questo punto di vista e non c'è nemmeno la possibilità ovviamente per l'allievo di avere una vita profittevole dal punto di vista del suo progresso spirituale questa è veramente una cosa molto bella perché in realtà molte volte le persone cercano qualcuno che gli dica che cosa devono o che cosa non devono fare in realtà il maestro qualora anche ci fosse non sarà certamente quello che ti dice quello che devi o non devi fare ma sarà quello che ti mette nelle condizioni di poter pensare con la tua testa di poter sentire con il tuo cuore e di poter discernere e attraverso questo discernimento naturalmente poter acquisire una dimensione di consapevolezza diversa rispetto a quella automatica che noi abbiamo e che ovviamente condiziona le nostre giornate Gurdjieff che era un personaggio molto particolare molto originale per certi versi affermava per esempio che gli allievi non devono essere non devono essere gli allievi a pagare il maestro a dare al maestro le fonti di sopravvivenza ma che deve essere esattamente l'opposto e lui coerentemente lo faceva naturalmente è evidente che c'era chi magari gli forniva i mezzi per farlo ma il suo atteggiamento era questo era lui come dire che pagava tra virgolette gli allievi e non viceversa è molto interessante anche questo perché naturalmente quando noi mettiamo in gioco un concetto come dire di questo tipo per esempio legato al danaro perché chiaramente Gurdjiep sapeva benissimo che la transazione danaro contro conoscenza spirituale non può funzionare e quindi lui con molta accortezza rovesciava questa dimensione quindi io credo che oggi anche se siamo in un periodo di Kali Yuga ci sia da un lato ci sia molta luce intendendo con questo che credo davvero che ci siano tante persone positive tante persone ingaggiate nel modo migliore nella loro vita e credo che oggi ci sia anche un'immensa possibilità per tutti noi di accedere diciamo anche alle fonti della conoscenza è chiaro però che tutto questo accesso non può essere un accesso di tipo consumistico ma è molto importante che questo sia un accesso che possa essere utile per il nostro cambiamento per la nostra evoluzione per la nostra presa di coscienza un altro grande esoterista e teosofo che amo sempre citare è Bernardino del Bocca il quale Bernardino del Bocca insisteva insisteva molto su questo concetto diciamo della via del cuore e sosteneva che se i canali di questa via della via del cuore non sono diciamo attivi nell'essere umano l'essere umano è preda non della mente che si relaziona con i simboli che si relaziona con gli archetipi ma è schiavo di quella che è la mente concreta e naturalmente la mente concreta è la fonte di tutti di tutti i nostri di tutti i nostri inganni potremmo chiederci di che cosa c'è bisogno in questa fase diciamo così travagliata e difficile della nostra esistenza premettendo che non è che 50 anni fa 70 anni fa 100 anni fa le cose andassero meglio diciamo di adesso ma insomma abbiamo vissuto in una sorta di bolla per un po' di tempo ci siamo dedicati con molta intensità diciamo al consumismo le guerre le lotte i lutti erano da qualche altra parte raramente in qualche modo li incrociavamo e quindi l'Occidente in qualche modo è diventato un po' indifferente è molto molto egoista però è anche vero che l'Occidente è un vantaggio che è quello appunto comunque di una molteplicità di fonti e quindi anche noi abbiamo la possibilità di discriminazione e ovviamente io credo che ci sia un altro ulteriore elemento da sottolineare sì la vita ci ha dato la possibilità di entrare in contatto con delle fonti di tipo spirituale in cui naturalmente ci siamo riconosciuti perché gli esseri umani non sono tutti uguali ognuno di noi ovviamente ha delle corde diverse e queste corde vengono sollecitate a volte in modo differente dalle circostanze dalle persone dai libri dalle fonti e così via ma questo essere umano che si è interessato della realtà spirituale in realtà ha avuto un immenso beneficio da parte della vita che gli ha dato questa possibilità allora io credo che questa straordinaria possibilità porta con sé anche il concetto di responsabilità che è una responsabilità sicuramente nei confronti degli altri ma che è anche una responsabilità nei confronti di noi stessi è un'occasione unica se la vita se ogni istante della vita come taluna ferma è unico e irripetibile perché comunque appartiene al tutto ma è unico proprio perché appartiene al tutto io credo che la vita che abbiamo a disposizione sia appunto una straordinaria opportunità e certamente non credo che la vita sia qualche cosa che noi possiamo gettare alle ortiche e gettare al vento penso che ci sia un concetto che che dobbiamo consolidare nel nostro cuore e che ha a che fare con l'umiltà non so voi ma io non sono così sicuro come dire di sapere tante cose di una cosa sono sicuro ma chiaramente anche questa frase l'ho copiata sono sicuro di non sapere so di non sapere e paradossalmente il fatto di sapere di non sapere da un lato è liberante e dall'altro lato però è stimolante perché proprio questa dimensione ti fa capire ci fa capire quanto importante possa essere diciamo il fatto di andare oltre a quelle che sono le percezioni dei nostri sensi e naturalmente quanto importante sia renderci umili umili nei confronti dell'universo umili perché non abbiamo tutti gli elementi per capire per giudicare non abbiamo tutti gli elementi per pontificare quindi nemmeno io naturalmente li ho e questo è chiaro e per cui dobbiamo essere umili nei confronti della manifestazione e imparare imparare dalla natura imparare come dire dai tanti saggi che ci hanno preceduto imparare dai poeti imparare dagli artisti imparare dai bambini imparare 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 e quindi io credo che la vita spirituale è una grande opportunità la vita spirituale è una grande possibilità e credo che questa dimensione di serenità e di gallezza ci possa appartenere è chiaro che non siamo mica degli sprovveduti sappiamo benissimo quanto forte sia la dimensione del dolore nella vita degli esseri umani di tutti gli esseri umani prima o dopo questa è una dimensione che abbiamo conosciuto che conosciamo che conosceremo e questo è questo che ci permette di capire anche quanto santa quanto sacra quanto bella possa essere nella nostra vita proprio la comprensione del dolore la comprensione delle cause del dolore e allora lasciatemi dire che non possiamo neanche permetterci di essere troppo pessimisti perché comunque la vita ci dà una possibilità la vita ce l'ha data e noi tocca a noi diciamo coglierla e coglierla fino in fondo per cui io nel concludere questa mia questa mia conversazione di questa sera voglio dirvi una cosa voglio condividerla con voi e anche fare proprio con la gioia della dimensione della ricerca con la gioia della dimensione della messa in discussione delle conoscenze precedenti è come che l'essere umano avesse la possibilità ogni giorno di risvegliarsi e di risvegliarsi nuovo di risvegliarsi diverso di risvegliarsi come dire con una dimensione più più capace di condivisione di di bellezza e così via e quindi l'augurio che faccio naturalmente a me stesso e che faccio a tutti gli altri è che la nostra vita possa essere serena e però naturalmente cerchiamo anche di impegnarci un po' in questo in questo senso un grande scrittore premio Nobel per la letteratura nel 1960 Albert Camus amava dire una frase che era poi questa il faux pensé si si f'ere bisogna pensare si si fa felice naturalmente Camus in un certo periodo della sua vita interpretava la vita stessa come una fatica di Sisypho e cioè in effetti ciascuno di noi come dire vive questa dimensione naturalmente i nostri sforzi le nostre possibilità di acquisizione anche di un certo grado di consapevolezza molte volte hanno anche a che fare con il fatto che pensiamo di aver raggiunto un risultato e poi in realtà magari questo non si manifesta magari le cose vanno indietro e poi si torna avanti eccetera questa frase di Camus è bellissima in questo sforzo in questa precarietà della dimensione umana caratterizzata dal dolore caratterizzata dal finire c'è però come dire questa fragranza questa poesia che la vita ha e aveva ragione in Camus il faux pensé sisi fere bisogna pensare sisi fo felice anche il sisi fo che è in noi quello che ogni giorno cerca di andare avanti cerca di di ottenere qualche risultato positivo sulla via della consapevolezza forse in ultima analisi non è il punto d'arrivo quello che ci può rendere seree ma è la consapevolezza che stiamo cercando e quindi appunto in questa fragranza in questa intensità della ricerca anche noi siamo come sisi fo e però come diceva Albert Camus grande osservatore della realtà il faux pensé sisi fere e quindi mi auguro e vi auguro che il nostro sisi fo possa essere comunque felice grazie grazie